Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo all'episodio numero 29 signori Siamo vicini all'episodio 31 record, per 30 giorni consecutivi sono usciti episodi di questa serie e guardate un po' po' che cazzarola abbiamo costruito Delle merdate, però, però qualcosa l'abbiamo fatta signori, del progresso c'è stato Allora signori, intanto prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i leggimenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale così vediamo di riuscire a raggiungere il 2000 iscritti il prima possibile E niente signori, continuiamo con la nostra avventura, cosa andiamo a fare? Questo oggi, allora io mi sono già portato avanti un bel po' con il lavoro del video di oggi Ovvero andremo a fare la ferrovia signori, che faremo partire più o meno, vorrei farla partire da qua? Potremmo fare partire da qua la ferrovia, effettivamente, sapete? Quanti biocchi abbiamo? 1, 2, 3, 4, sì, potremmo partire da qua e poi se ci sarà bisogno di altri binari faremo altri binari Quindi, in primis, creiamo la base per la nostra ferrovia signori, recuperiamo un po' di legno Allora io già mi sono portato avanti tanto, 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 non potevo fare tutto off camera Perché sennò del video non usciva niente, usciva già tutto bello e pronto e non aveva molto, molto, molto senso Molto senso, quindi recuperiamo un po' di legno Questo me lo devo portare pure a casa, grazie, gentilissimo Ripiantiamo gli alberi Dai, questa forma di alberi comunque è stata utile, almeno abbiamo gli alberi a portata di mano Recuperiamo tutto questo legnotto di qua Da sì, la facciamo di questo colore, molto semplice, così non ci perdiamo in chiacchiere 64 blocchi più altri 11 Le torce me le metto in mano, sperando di non fare fail come l'altra volta che abbiamo bloccato l'acqua con le torce Allora io direi di partire da qua, così, 1, 2, 3 e 4, è giusto? Sì Poi raccapiamo giusto da dove fare partire la nostra bellissima ferrovia che unirà il nostro mondo con lo spanner di scheletri Che funziona signori, infatti potete vedere che rispetto a ieri ho decisamente più livelli Decisamente sì, decisamente sì Allora io direi che la nostra ferrovia può tranquillamente partire da qua, quindi metterei subito un primo blocco qui Così, quindi la facciamo partire da qua Decisi, decisi Non ho intenzione di fare redstone torce signori Ma metteremo direttamente i blocchi di redstone Decisamente sì, decisamente sì Oppure potremmo fare una cosa così a tre in tante E poi una volta che entriamo in caverna far... fare il... come si chiama? Aspettate, ma qua non ho lo spazio per andare in piazza, ce l'abbiamo Sì, lo spazio per andare in piazza ce l'abbiamo Di qua possiamo fare la ferrovia che però possiamo anche fare un pochino più là Per non essere proprio in mezzo alle chapas Ok, perfetto Cosa dobbiamo fare signori? Dobbiamo fare una linea ferrovia Che scende tutto Scende molto carina Scende e scende e che si vada a unire là Da quel punto, dire la signora, poi c'è tutta la discesa che arriva verso il mob spawner Allora, io direi che per questo momento possiamo continuare a fare a tre il giro Che ci può stare Verrà un poco cicciosa Ma non ci interessa A questo giro noi possiamo mettere delle torce di redstone Quindi direi di portarci tutta quanta la redstone che abbiamo, signori Portarci anche altro legno per poter fare un discorso di stick Perché ne avremo bisogno, secondo me, di tanti stick Quindi facciamo una botta di stick come se non ci fossero domani Facciamo tutti quelli che possiamo di questo Ok Idem con patate Così altri 4 Sono 20 Posso farli combinati? Sì, perfetto 28 stick mi bastano? Non penso Recuperiamo anche questi Che non fanno male Ne abbiamo 31 31 mi dovrebbero bastare, signori Comprese anche i... Comunque posso fare altro con legno che c'ho Va bene, signori Allora, io faccio un rapidissimo taglio Faccio tutta questa discesa Vedo un attimino di costruire qualcosa tutto pirotecnico Che mi porta fino a là Dopodiché ci vediamo con calmo Quando iniziamo a mettere i binari Per il rottore di scatole anche della redstone Io però mi partirei da qua sotto Proprio per seguire una linea arretta In modo tale da non far cavolate Poi potremmo fare anche tutta una struttura Con tutti i pilastri Molto carina, colosa Ci inventiamo qualcosa, signori Ci inventiamo qualcosa Intanto facciamo uno in giro così E da qua iniziamo a salire Ora capiamo giusto come possiamo strutturarla tutta, signori Mi basteranno questi blocchi? Penso proprio di no Però ci proviamo Però ci proviamo Ok signori Abbiamo fatto il nostro bellissimo binario centrale E sono riuscito a prendere precisamente le misure precise Precise Guardate un po' cosa abbiamo fatto E' un po' un roller cast Molto molto divertente Ho fatto intanto il giro centrale Perché devo capire quanta legna avevamo Quanta legna avevamo per fare tutto l'ambaradan E non ci è bastato minimamente la legna Quindi facciamo un piccolo p-stop Recuperiamo un pochino di legna E' vero che di lato potremmo anche mettere la legna Gli slab Esagerato Gli slab per risparmiare qualcosina Però no Preferisco farlo tutto così Poi possiamo attaccare anche varie decorazioni Lungo tutto il Lungo 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 tutto i bordi E si Purtroppo la legna se ne è andata tanta Perché comunque se ne è andata Se ne è andata quasi uno stack Solo per fare la parte centrale Diciamo Poi dovremmo comunque andare a fare tutto il resto Delle altre due linee E non la vera Meluccia Che ci faceva lì questa mela dispersa Nei meandri Quindi Facciamo una cosa Recupero un altro po' di legno Recupero un altro po' di legno Sticchettini utili E un altro po' di legno Completiamo quel giro Non mi devi dare questo Ma ok E recupero tutto quanto il giro E ci vediamo appena iniziamo a mettere le torce I binari E si va giù in caverna In maniera prepotente In maniera prepotente Ok signori Tutto il legno è piazzato Abbiamo fatto tutto la base del nostro giro di roll cast Praticamente Sì la nostra Montagna russa Allora io ho già Duplicato Una botta di Di binari Mettiamola così In maniera In maniera educata Abbiamo anche le nostre bellissimi blocchi di redson Che si serviranno dopo Facciamo qualche torcia Qualche Facciamone anche un bel po' Signori Facciamone Un quattordici Ma penso dovrebbero bastarci a questo giro Per fare le prime rotaie Allora di sicuro La rotaia ci serve di qua Se no il nostro treno non parte Quindi io direi di metterne tre Così partiamo belli già sprintosi E questa non ci va messo nulla Poi iniziamo così Dai Vai 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 A quanto siamo? Vabbè facciamo un tot A giro Uno due tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ok Poi ce ne spariamo tre Con la torcina qua Bellissima Che è già attivata E poi ripartiamo così Ok Qua dovremmo tranquillamente scendere Così Facciamo di fare la curva Perfetto Poi uno Due E tre Torcina Taglie così Così siamo belli sparati Signori E non sto contando Quanti ne sto mettendo Ma chi se ne frega Dai E con tre Ce l'abbiamo Quindi Anche se questa non è la parte Quella che sarà più C'è la parte più avanti Che sarà molto La parte quella che entra in caverna Che sarà decisamente rivita Qua ne mettiamo uno Con uno Così prendiamo velocità Signori Qua facciamo la curva Che mi gusta E Il problema è che io posso mettere Una di questi E la torcina Sì Che cosa interessante Che cosa interessante Allora facciamo così Così E qua ce ne mettiamo Altre due Anzi altri tre Dai che mi danno Il bello Lo sprint in salita Lo sprint in salita Mi basteranno Se lo dai Mi sa che ne ho prese Veramente poche Comunque di qua Partiamo e facciamo La curva Come se non ci fosse un domani Qua ne potremmo mettere Una che mi dà Lo sprint Ma sì Ma mettiamo Ce l'abbiamo Signori ce le mettiamo No Che me le devo Conservare tutte Ok Di qua io direi Stessa cosa Due Così abbiamo Lo sprint In salita Poi Così Qua però me la devi mettere E qua anche qui Ne metterei Almeno altre due Che mi danno Bello sprint Deciso Per partire Allora Devo andare a recuperare Le rotaie signori Perché ne ho prese Sono veramente poche Già se ne sono andate Quasi Di quelle normali Uno stack Quasi uno stack Solo per far questo giro Questo giro di qua La partenza praticamente Quindi recuperiamone Un altro bel po' Che sono stato scemo Potevo prenderle tutte Subito direttamente Posso prenderle da qua Le fai prendere Grande Prendiamo l'altro stack Di questo E questa E prendiamo anche L'altro stack Rosso Che non si può mai sapere Signori Non si può mai sapere I blocchi Li utilizzeremo Perché in caverna Non ho intenzione Di mettere le torce Decisamente no Decisamente no Ma cambieremo Direttamente I blocchi sotto Così da darli Direttamente Ma queste sono attive Sì Sì sono attive Sì Queste mi sembrano Più colorate Rispetto a queste Ma queste Non sono attive Signori Fai fare una prova Se io levo Questa No No Erano attive Erano attive Ho visto male Io Ho visto male Io Ok Da qua Si parte E io direi Che Questo blocco Per esempio Già si può levare Mettiamo Un bel blocco Di redstone Dopodiché ci mettiamo A meno Tre Sì Tre mi sta bene Perché ora è tutto così Signori E se non abbiamo La giusta potenza Noi non andiamo Da nessuna parte Quindi direi che Possiamo metterne Altre Se non è Saremmo sparati In una maniera Quasi esagerata Ma non ci interessa Nolli Porca miseria Vabbè Lo recuperiamo dopo Metti questo Qui E qua ci spari Altre tre Di queste Uno Due Tre Decisi Poi andiamo così E dobbiamo continuare Ad andare verso giù Signori Come se non ci fosse un domani Come se non ci fosse un domani Quindi Altro taglio Tattico E ci vediamo Quando siamo Quando siamo Quando sono praticamente Giù in caverna Ecco Qui già potremmo mettere questo Che lo leviamo Io continuo a parlare da solo Non vi preoccupate Non vi preoccupate Tutto tranquillo Signori Così Così abbiamo Lo sparo Per salire Verso l'alto Ok E va bene Ci vediamo dopo Signori Ok signori Siamo arrivati Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Mancano Gli ultimi blocchettini Proprio per Concludere In bellezza E direi Che ci siamo Ok Siamo arrivati Ora da qua Poi noi faremo La curvetta Allora io voglio partire Mettiamo da qua Quindi mi fai la curva di qua Qua mi metti uno di questi E poi mettiamo un blocco di chiusura In cui ci sarà il nostro bellissimo bottone Che farà partire tutto quanto Signori Allora Se i miei calcoli sono esatti Dovremmo riuscire a salire sopra Allora qui ho fatto questo disegno così Col muro che va un attimino ad aprirsi Che è molto carino secondo me Ovviamente potremmo fare un'altra cosa Scusami Questo lo levi Questo lo metti qui E qua ci andiamo a mettere un bottone di legno Dai Almeno Così E poi sopra ci mettiamo un cartello Me lo fai mettere il bottoncino Perché non me lo fai mettere il bottoncino Mettiamo lì Parte la rotaia Sì Si accende Quindi dovrebbe funzionare signori Allora qui ho fatto questo muletto così Che non è per niente interessante Qui va ancora tutto sistemato Ho messo un altro hopper lì Perché apparentemente I drop mi venivano sparati a destra e a sinistra Qui abbiamo una cassa piena di inutilità Vediamo se riesco a portarmela tutta adesso Così posso levare questa cassa E fare spazio Perfetto La decorazione di questa zona O comunque il miglioramento di questa zona Lo faremo successivamente Di qua invece c'è la scaletta laterale Che mi fa salire sopra Qui dobbiamo andare a mettere tutte le scale giuste Tutte le scale giuste Che mi fa salire sopra Che è la zona in cui Diciamo se io sto qui Sponono molti più scheletri Sponono decisamente molti più scheletri Rispetto al fatto che io rimanga là sotto Ora però effettivamente Potremmo fare le scale Piazzarle pure E Facciamo le scale Sì facciamole così dai C'è un macello di questi blocchi Consumiamoli almeno 40 scale mi bastano? Non lo so Non lo so Io per non leggere e scrivere Signori ne faccio Un'altra botta E siamo tutti contenti 64 Vabbè Ricopriamo queste Leviamo la crafting table da qua Che non serve Ok E piazziamo tutte queste scalette carine e coccolose Allora Questa di qua Questa di qua Questa di qua Questa di qua Si notano? No Per niente Però va bene Però va bene Potremmo farle in maniera diversa Così da farle notare di più Sì Forse sì Forse no Ma non ha importanza Oramai Abbiamo deciso per questa sistemazione Di qua non ci va Di qua ci va Di qua ci va Qua ci va Qua ci va Certo Che ci va Qua poi Ah siamo arrivati signori Mi hanno fatto 40 Erano 4 gradini praticamente 4 gradini contati Così riusciamo a salire velocemente Verso la zona X Y Z Ok Signori Momento Momento clou Momento clou Funzionerà Il minecart Che ci riporterà a casa Lo sapremo solo ora Provandolo Intanto ammazziamo tutti i scheletri Come vedete La farm funziona Signori E facendo il buco Della 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 ferrovia Ho trovato altri diamanti Che non ho toccato Perché dobbiamo fare Prima un piccone Con fortuna Signori Senza un piccone Con fortuna Io non tocco Assolutamente niente Vedete qua I drop Mi finiscono fuori Dobbiamo allargare Sta situazione Non può essere così Decisamente no Va bene Il nostro obiettivo però Prima di tutto È Vedere se funziona Il La rotaia Quindi Mettiamo una crafting table Qui Facciamo un minecart Ok signori Ce l'abbiamo Abbiamo però l'inventario pieno Cosa buttiamo Buttiamo però Sti gradini Che non ci servono Mettiamo il minecart Qui Saliamo sul minecart Signori Pulsante Incrociamo le dita Ok 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 Oh no Ma come Stiamo tornando indietro Ok Ok C'è un piccolissimo problema Tecnico Tattico Ci serve qualche altro Binario più potente Ok Allora Leviamo questo E mettiamo un altro Binario rosso Qui Così dovremmo Acquistare velocità Di qui Ne pigliamo un altro Di qui Però Lo mettiamo Questo dopo Ok E lo mettiamo Qui Questo di qua Secondo me Non era nemmeno No Mi devi lavare il binario Mi devi mettere questo Ma qua ce l'ho messo Sì Il redstone qui c'è Ehm Perché sento Gli zombie Cosa voglio Dammi gli zombie Ehm Sostituiamo Questo di qua Mettiamone uno così A caso Anche se lì C'è Il coso Quindi leviamo questi due Leviamo questo binario Di qua Mettiamo uno di questi rossi Ok E quindi qua Prendiamo potenza Qui Dovremmo farcela Qui Qui non ce la facciamo Qui decisamente no Qui decisamente no Quindi leva questo No non devi rompere pure il blocco Però porca miseria Porca di una miseria Ok E mi allunghi Ma si allungamelo così Tanto lì ce la dovremmo fare Qua Levami questo blocco di qua Ok Mi metti questo Così Diciamo che la potenza La prendiamo Ehm Qua dovremmo essere Sparati Neuamente verso l'alto Qui C'è troppa distanza Qui non ce la facciamo nemmeno Va bene signori Rapido taglio Piccoli problemi di ingegneria Piccoli problemi di ingegneri Ehm Rapido taglio E ci vediamo al secondo tentativo Secondo tentativo Ok Proviamo il secondo tentativo Signori Ho messo qualche rotale rosso in più Vediamo come va Intanto se non sbaglio Scendendo da questa parte Di qua Intanto scusatemi Mettetemi una torcia qui Va bene Scendete Ecco vedete No C'ho un creeper alle spalle Signori Questa cosa non va per niente bene Ho sentito il creeper Che mi stava scoppiando vicino Dove sei brutto bastardo? Aspettate signori Modalità stealth Vabbè Il piccignacolo Ma giuro di aver sentito il creeper Ci vediamo un attimo dalla ferrovia Giuro che avevo sentito il creeper Che sta facendo Csss Maledetto Piccignacolo di merda Dai E muori Mannaggia a te Devo stare pure attento a te Oh Così impari E' ancora vivo Comunque signori E dicevo I due diamanti Che ho trovato Che poi prenderemo Con il piccone fortuna Eccolo Mannaggia 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 Ma io posso stare Una cosa del genere? E' possibile una cosa del genere? Calma 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 Oh Mamma mia Mamma mia Che cosa terribile Vediamo se funziona Signori Partiamo Si va Prima rampa Seconda rampa Terza rampa Quarta rampa Quinta rampa Sesta rampa Dai che si sale Dai che si sale Dai che si sale Ci siamo Ci siamo Ci siamo Stavolta è andata Stavolta è andata Stavolta è andata Non siamo velocissimi Non siamo velocissimi Però riusciamo a salire Signori E' andata E' andata Non siamo velocissimi Ma non ha importanza Non ha importanza Va bene così Va bene così Fatemi scendere Che sto per vomitare Va bene signori Dopo Tutti questi Situazioni stranissime Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per il giudizio E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao